ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vediamo insieme come realizzare il cardigan che avete intravisto nelle immagini di copertina prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto a seguirmi su instagram su facebook ed anche nel nuovissimo canale whatsapp vi lascio tutti i link nell'info box della descrizione del video l'occorrente per questo progetto rimane molto basico abbiamo un filato acrilico io ho scelto di lavorare lana carezza nella variante salvia di casa a tre sfere abbinandolo ad un uncinetto numero tre e mezzo marca punti ago da lana ed un metro possiamo iniziare e quale modo migliore di iniziare se non quello di un fantastico disegno ebbene voglio farvi capire perfettamente come voglio lavorare questo cardigan intanto lavorazione in verticale il senso di marcia sarà quindi questo stabiliamo per prima cosa quanto vogliamo lungo il nostro cardigan nel mio caso 65 centimetri abbiamo un multiplo di lavorazione di 3 più 2 pertanto struttureremo una catenella iniziale che sia lunga tanto quanto vogliamo lungo il nostro cardigan ma che allo stesso tempo sia multiplo di 3 più 2 dopo di che come ci regoliamo per la larghezza del nostro pannello principale dobbiamo misurare la nostra circonferenza più ampia e dividere questa circonferenza per due una delle due grandi misure costituirà il pannello posteriore che vedete infatti più ampio e l'altra misura la divideremo ulteriormente per due andando a strutturare appunto i nostri quarti anteriori facendo un rapido esempio ammettiamo di avere 100 centimetri di circonferenza dividiamo per due otteniamo 50 abbiamo un 50 per il nostro pannello posteriore e il restante 50 lo dividiamo in due 25 e 25 vi mostrerò la prima parte della lavorazione su campione per non dare spazio ad alcun dubbio e direi che ci possiamo spostare con uncinetto e fila ho realizzato una catenella di 15 maglie ne aggiungo due entro nella seconda dall'uncinetto realizzando di fatto un ritorno a maglia bassa quindi una maglia bassa in ogni maglia fino alla fine della mia prima riga terminata la prima riga realizzo 3 catenelle volto il lavoro e nello stesso punto dal quale parto nelle mie catenelle realizzo una maglia alta filo sull'uncinetto salto due maglie di base entro nella terza e nella stessa maglia realizzo 3 maglie alte iniziamo a dare vita al nostro motivo granny filo sull'uncinetto salto due maglie entro nella terza e realizzo in questa terza maglia 3 maglie alte continuo fino alla fine della riga arrivato all'ultimo punto che ho marcato come ben sapete filo sull'uncinetto entro nel punto marcato e qui realizzo soltanto due maglie alte come abbiamo fatto proprio all'inizio del nostro lavoro a questo punto realizzo 3 catenelle per voltare il lavoro nel mio caso chi mi segue lo sa vado a realizzare una maglia bassa sopra l'altra e marco la terza catenella oppure il primo punto che ho sotto l'uncinetto in questo modo filo sull'uncinetto nel primo punto disponibile realizzo una maglia alta filo sull'uncinetto nello spazio che mi trovo sottostante realizzo un'altra maglia alta dando così vita non solo al mio motivo granny ma anche ad un bordino che mi porterò appresso per tutta la lavorazione a inizio e fine riga continuo lavorando gli spazi come lavorazione granny chiede filo sull'uncinetto entro nello spazio realizzo 3 maglie alte e vado avanti così fino alla fine della riga ho lavorato l'ultimo spazio concludo la mia riga e tutte le righe successive entrando col filo sull'uncinetto nell'ultimo punto e realizzandoci due maglie alte tutte le righe che andremo a lavorare saranno strutturate in questo modo inizieremo con tre maglie alte concluderemo con due maglie alte ora voltiamo il lavoro con tre catenelle o con un punto basso sopra al punto basso e replichiamo questo motivo quindi queste righe di andata e di ritorno fino ad ottenere l'altezza del nostro quarto anteriore fingiamo che io sia arrivata al momento della divisione quindi ho lavorato per i centimetri che mi occorrono per arrivare alla misura che ho stabilito ed ora devo andare a realizzare lo scalfo della manica per poterlo fare devo calcolare intanto l'altezza dello scalfo della mia manica e questa è variabile da persona a persona il mio scalfo di 18 centimetri misurate il vostro e in base ai centimetri che avete dovete andarli a togliere dalla vostra lavorazione quindi dal pannello completo sottraete i centimetri del vostro scalfo e interrompete in quel punto la lavorazione in questo modo ora dobbiamo realizzare una catenella volante che arriva alla fine del nostro pannello e che rispetti comunque il multiplo di 3 più 2 ho realizzato nel mio caso del campione 9 catenelle ne aggiungo due e volto il lavoro continuo a lavorare il mio granny sulle catenelle quindi salto due catenelle entro nella terza e realizzo una maglia alta vado a marcare la prima maglia nello stesso punto realizzo un'altra maglia alta e mi trovo catenelle comprese con un primo totale di tre filo sull'uncinetto salto due catenelle entro nella terza e ci realizzo tre maglie alte filo sull'uncinetto e replico salto due entro nella terza tre maglie alte siamo arrivati salto queste due maglie e salto il gruppo di tre sottostante filo sull'uncinetto entro nel gruppo successivo e qui realizzo le mie tre maglie alte effettuata questa operazione abbiamo ricavato il nostro scalfo vedete da questo momento in poi continueremo a lavorare riga su riga il nostro pannello posteriore dopodiché replicheremo la stessa lavorazione per andare in avanti ancora a realizzare il secondo quarto anteriore mi sposto a grandezza naturale così possiamo capire ancora meglio di cosa stiamo parlando se adesso andiamo a sovrapporre il quarto anteriore al pannello posteriore otteniamo un gilet una parvenza di gilet vedete della lunghezza che desideriamo e quindi siamo già un ottimo punto dobbiamo realizzare una cucitura per andare a chiudere la nostra spalla posiziono il mio pannello dritto contro dritto appongo il marker in realtà lo appongo a 13 centimetri per avere uno scollo leggermente più chiuso incorporo il filo di lavorazione prendendo entrambi i miei pannelli catenella e inizio a chiudere prendendo le asoline interne di entrambi i pannelli maglia bassissima catenella punto successivo asolina interna di entrambi pannelli maglia bassissima catenella e faccio questa operazione da entrambi i lati rivoltato il nostro lavoro sul dritto abbiamo ricavato i nostri scalfi delle maniche non solo ma abbiamo già pronta la nostra lavorazione granny sottostante per poter continuare la nostra manica lavorandola in tondo andiamo quindi a inserirci nel sotto manica in uno degli spazi ci ancoriamo con una catenella seguita da altre due e nello stesso spazio realizziamo ulteriori due maglie alte proprio ad iniziare il nostro primo motivo granny ed ora non ci resta che lavorare in ogni spazio disponibile le nostre tre maglie alte io ho scelto di realizzare una manica lineare quindi non andrò ad effettuare diminuzioni mi fermerò semplicemente 5 centimetri prima di dove voglio che arrivi la mia manica perché voglio poi creare una sorta di polzino o di bordino quindi dobbiamo semplicemente procedere questa volta giro su giro con il punto granny fino a raggiungere la lunghezza della manica che desideriamo naturalmente il tutto verrà poi replicato nell'altra manica ho allungato la lavorazione della mia manica per circa 40 41 centimetri ovviamente ho misurato mano mano per accertarmi che la lunghezza fosse di mio gradimento a questo punto fermandomi appunto qualche centimetro prima per realizzare un polzino chiudendo il mio giro realizzo due catenelle e faccio delle diminuzioni in questo modo filo sull'uncinetto entro nel punto successivo pesco il filo mi sposto subito nel punto immediatamente successivo ripesco il filo ho quattro asoline sull'uncinetto chiudo tutto insieme e replico per tutto quanto il giro dopodiché vi faccio vedere di qua che l'ho già terminato vado a strutturare 1 2 3 4 5 e 6 nel mio caso giri di mezza maglia alta in costa retro e termino il mio polzino con un giro semplicissimo in maglia bassa facciamo la stessa cosa da questa parte e iniziamo con il collo e la fine dei quarti anteriori terminate le maniche ci occupiamo di chiudere un pochino di più il nostro cardigan abbiamo due modi di procedere uno è quello di fare il nostro ferro di cavallo comprendendo anche lo scollo l'altro è quello di realizzare delle righe di andata e di ritorno fermandoci dove inizia il giro collo questo perché magari non vogliamo un collo arricciato ma lo vogliamo molto leggero io infatti opterò per questa seconda opzione e quindi lavorerò delle righe di mezza maglia alta in costa retro di andata e di ritorno fermandomi proprio nel punto dove poi inizia il mio giro collo lo stesso numero di righe che effetto da una parte naturalmente lo vado poi a replicare dall'altra per raggiungere questo grado di chiusura sono andata avanti in righe di andata e di ritorno da entrambi i lati per circa 9 centimetri vi consiglio come sempre di andare mano mano a misurare il vostro capo questo perché poi in base anche al tipo di filato che andrete ad utilizzare potrete essere fuori di circa 2-3 centimetri quindi per sicurezza misurate sempre il capo in modo da individuare con precisione la misura che vi è più congeniale una volta terminata la realizzazione dei due quarti anteriori il finale diciamo dei due quarti anteriori ho fatto una piccola bordatura con una variante di punto gambero sono partita dal punto estremo del quarto anteriore e ho realizzato lungo tutto il quarto anteriore dietro al collo sono passata dalla parte opposta ed ho anche rifinito la parte posteriore ho eseguito la stessa operazione nel primo giro manica vediamo insieme come fare questa variante del punto gambero in quest'altro giro manica ci inseriamo in un punto il nostro giro manica ancoriamo con una catenella ci inseriamo nello stesso punto come per realizzare una maglia bassa portiamo fuori il filo e qui ruotiamo l'uncinetto di 360 gradi chiudiamo la maglia bassa punto successivo stessa operazione inizio di maglia bassa ruotiamo di 360 gradi e chiudiamo continuiamo così bordando tutto il nostro cardigan e ci vediamo a progetto terminato nascosti i fili possiamo dire terminato il nostro progetto per una taglia s ho impiegato poco più di 400 grammi di filato infatti avevo acquistato un lotto da 500 grammi e un gomitolo quasi intero è quello che mi resta troveremo il modo di utilizzare anche quello non temete vi invito come al solito a iscrivervi al canale a seguirmi su facebook su instagram ed anche nel canale whatsapp vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial grazie 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 grazie